Siamo qui al Politecnico di Torino con Luca Sardo, portavoce di Torino dei Fridays for Future. Sardo, lo sciopero globale contro il clima è stato un successo di numeri in tutta Italia. Sembrate gli unici di fatto a riuscire a smuovere certi numeri che nessuno ad oggi sembra in grado di realizzare. Sì, diciamo, non è del tutto merito nostro. Il motivo, secondo me, è che questa causa della crisi climatica ormai è sentita da tantissime persone, soprattutto da tantissimi studenti in tutta Italia, in tutto il mondo in realtà. E quindi quando si cerca di unirsi, di scendere in piazza insieme per aumentare la sensibilità, inserire questo tema nel dibattito pubblico, poi vengono tantissime persone. Lo step successivo, però, è passare dalle parole ai fatti, qualcosa invece che manca ancora tantissimo. E quindi bisogna che questi scioperi siano sempre più efficaci e si riesca davvero a cambiare le cose, oltre che solo a far parlare del problema. Ecco, voi avete declinato giustizia ambientale e giustizia sociale. Declinato e intersezionato questi due argomenti. Possiamo dire che il movimento ambientalista, come dire, è partito, i nuovi movimenti ambientalisti in realtà, quindi Fridays for Future, Extinction Rebellion tipicamente, sono partiti da una giustizia ambientale per poi includere l'aspetto della giustizia sociale e ritenerlo assolutamente indissolubile, e che la base sociale invece, che storicamente è sempre partita da problemi sociali, abbia incluso in realtà l'aspetto ambientale. E che quindi si sia creato un grosso movimento di massa? Sì, esatto. Diciamo, noi fin dall'inizio abbiamo puntato tanto su questa connessione, proprio per far vedere che la lotta per l'ambiente, più nello specifico contro la crisi climatica, qualcosa che non riguarda i pinguini e gli orsi polari solamente appunto nell'Artide o nell'Antartide, ma è qualcosa che riguarda noi da vicino e purtroppo in questi anni e in questi mesi lo stiamo vedendo sempre con più chiarezza. E quindi è stato fondamentale collegare i problemi ambientali, i problemi sociali, quello che abbiamo cercato di fare in tutte le manifestazioni. L'ultima ha coinvolto molto, anche diciamo emotivamente, gli studenti, perché una settimana prima era successa una tragedia in Italia, ovvero la morte di un altro studente, Giuliano, durante lo stage di alternanza scuola lavoro, e quindi era ancora un motivo in più per scendere in piazza e per difendere il nostro futuro, sia dal punto di vista ambientale, con i danni che ci saranno per la crisi climatica, sia dal punto di vista sociale per i problemi che purtroppo affliggono i lavoratori e gli studenti quando entrano nel mondo del lavoro. Ecco, veniamo ai fatti di Via Montebello. Il corteo è stato fermato, in realtà il corteo voleva arrivare davanti alla mole per appendere le foto dei ragazzi morti in PCTO, è stato fermato. I fatti sono stati poi soggetti a diverse letture da parte di alcuni quotidiani. Ma possiamo dire che in realtà era normale dialettica all'interno di un movimento e che poi di fatto non c'è stata nessuna violenza nello svolgimento del corteo? Sì, sì, no, infatti alla fine è andato tutto per il meglio, abbiamo avuto lì un momento in cui non riusciamo a capire bene quali fossero le nostre intenzioni, perché appunto abbiamo ricevuto questo blocco alle terze di Via Montebello, ci siamo dovuti un attimo ricalibrare, abbiamo parlato insieme di quale fosse la strategia migliore e alla fine siamo riusciti sia a fare l'azione, anche se non proprio come l'avamo pensata, sia a proseguire col corteo senza particolari difficoltà e tutte le persone che hanno partecipato ci hanno detto che sia l'azione simbolica alla mole sia il corteo in generale è stato molto vivace, molto sentito, molto emotivo, quindi non ci sono stati problemi per fortuna. Quindi possiamo parlare di un corteo unito e non diviso, ma soprattutto avevate detto in questura che sareste passati davanti alla mole? Allora, diciamo, il percorso l'abbiamo modificato a pochi giorni dal corteo, proprio perché abbiamo fatto delle assemblee con i collettivi studenteschi in cui abbiamo cercato di insegrire anche la tematica dell'alternanza scuola-lavoro e quindi di modificare il percorso anche per lanciare un passaggio da quel fronte, quindi il percorso era in realtà molto simile a quello che poi abbiamo fatto, quindi prevedeva il passaggio sul corso San Maurizio, avevamo preavvisato alla questura che avremmo cercato di fare quell'azione simbolica alla mole, le modalità non erano state tanto chiare o comunque le abbiamo viste in modo diverso come noi le aspettavamo, come se le aspettava la questura, però appunto alla fine siamo riusciti a fare in parte quello che volevamo, anche se la nostra intenzione era quella di arrivare proprio col corteo davanti alla mole, però l'importante è che il messaggio sia passato e che tutto sia andato per il meglio e sicuramente il corteo poi è stato unito, non ci sono stati particolari problemi. Grazie mille. Di nulla, grazie a voi.